Sarà una partita bella perché affrontiamo una grande squadra come la Juve, credo che sarà una partita difficile per tutte e due le squadre, forse per noi un po' di più perché abbiamo un risultato solo, però credo che sarà una partita aperta. Noi sappiamo che la Juve è una grande squadra, sappiamo che la Juve ha due risultati a favore, noi uno solo, sappiamo che sono in un grande momento perché vengono da 7-8 partite senza subire gol e vincono tutte le partite, ma giocando in casa abbiamo il nostro pubblico che sicuramente sarà fondamentale e ci darà una mano, quindi cercheremo di vincere questa partita, cercheremo di fare un po' più di attenzione con la difesa e sicuramente per vincere questa partita dobbiamo cercare di non prendere gol perché prendere gol sarebbe poi abbastanza dura, ma comunque sono abbastanza infiducioso. Credo che Pirlo sia un grande giocatore, quindi nel momento che manca un giocatore come Pirlo credo che la Juve perda qualcosa, però allo stesso tempo possono giocare con giocatori diversi, quindi con qualcosa di diverso rispetto al solito, però penso che l'assenza di Pirlo sia un'assenza importante. Grazie. 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 Grazie.